Entro un mese è sbloccato l'iter per l'apertura della discarica di Irgine di Notaresco. Lo ha annunciato il presidente della regione Gianni Chiodi durante l'ultimo question time rispondendo ad un'interrogazione sull'emergenza rifiuti nel Terramano presentata dal consigliere del PD Claudio Ruffini. Chiodi ha spiegato che l'iter è in realtà concluso ma vi è una diffida in corso del comune di Notaresco. Nell'interrogazione Ruffini ha chiesto anche di sapere se verrà affidata la bonifica e l'ampliamento della discarica di Atri del comprensorio del Piombafino e se verrà riavviato il progetto della discarica di Salino di Tortoreto. Nel caso dell'impianto di Atri il presidente ha riferito che vi è un ricorso da parte di una ditta. Chiodi ha aggiunto che è assurdo ascoltare polemiche di sindaci che spesso sono responsabili di talune situazioni.